Bene, inauguriamo la seconda edizione del premio Più bellezza in valle, avrebbe dovuto essere l'anno scorso ma le ragioni dello spostamento le conoscete tutti. Nel frattempo è successa una cosa importante, Biella è diventata una città creativa Unesco e la mission che Unesco attribuisce alle città creative è quella di integrare la cultura e la creatività nelle strategie di sviluppo locale. Ecco, è evidentemente una mission globale come lo è l'attività di Unesco perché se la caliamo nella realtà d'Italia io credo che andrebbe corretta questa mission, non potrebbe non includere la parola bellezza e dovrebbe diventare, integrare la cultura, la creatività e la bellezza nelle strategie di sviluppo locale. Questo perché la bellezza è qualcosa che in Italia caratterizza il paese e lasciatemi dire non è neppure un merito, è un'eredità, una sorta di dono che noi ci siamo trovati e secondo me è un dono fatto da due gambe. Una è la quantità di bellezza distribuita nel nostro paese sia in termini di quantità che in termini di concentrazione, siamo un paese veramente originale confrontato con il resto del mondo. E la seconda è la nostra capacità di riconoscerla la bellezza e riconoscendola anche di replicarla, quello che comunemente noi chiamiamo il buon gusto. Io credo che sarà successo a tutti voi viaggiando di trovarvi in un paese straniero e di distinguere in mezzo alla folla gli italiani. Sono sempre vestiti in maniera diversa, non voglio neanche dire più elegante, noi diciamo più elegante, ma in maniera diversa ci riconosciamo. Il buon gusto è qualche cosa che ci è connaturato perché viviamo in un ambiente dove la bellezza è diffuso. Dicevo, questo però non è un merito nostro, ce lo siamo trovati. Che cos'è che dobbiamo corrispondere come minimo di fronte a questa fortuna? Beh, il fatto di manutenerla questa bellezza, il fatto di preoccuparci. Quando poi penso al nostro territorio che ha un problema sociale, economico, è un territorio, mi dispiace usare la parola, non vorrei, ma in realtà è un territorio in declino. Perdiamo abitanti, perdiamo attività economiche, facciamo fatica a sostenere il livello di vita che avevamo in passato. Ecco, uno degli elementi, a nostro modo di vedere, per rimettersi in una strada di recupero è quella di essere un territorio gradevole, essere un territorio interessante per chi vuole venire ad abitare qui, in modo che le persone si fermino, in modo che le attività economiche ripartano. E quindi questa cura della bellezza che abbiamo intorno è ciò che dobbiamo fare, una delle tante cose, ma è una cosa fondamentale per pensare ad un recupero anche economico del nostro territorio. E in questo modo vi ho detto, in parole diverse da quelle che magari ascolterete dopo, ma il concetto è lo stesso, qual è la ragione del premio Più bellezza in valle? Contribuire a migliorare la gradevolezza di questo territorio per la gente che ci vive, per la gente che vorrà venirci a vivere, convinti che solo in questo modo si possa ritrovare ragioni di sviluppo, anche economico e di benessere per tutti. E con questo io finisco la mia presentazione e passo la parola al sindaco di Valdilana, Mario Carli, a cui ancora una volta faccio i complimenti per il fatto che, per chi non è del posto, Valdilana è un comune che nasce dalla fusione di quattro comuni, operazione di tre anni fa. Ma è una cosa estremamente logica, è una cosa bellissima, è una cosa utile, è una cosa che rende, però guarda caso ho così poco diffusa. Complimenti a te. Grazie Paolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono particolarmente contento e anche emozionato di poter essere qua con voi in questa seconda edizione. Saluto tutte le persone care e presenti che ci sono, i sindaci. Io volevo prendere spunto da una riflessione che mi ha fatto venire proprio mentre stavi preannunciando quello che sarebbe successo nella giornata, il perché del premio Più Bellezza. Il ragionamento che volevo condividere con voi era un po' questo. Ci siamo accorti proprio dalla fusione di queste quattro realtà comunali, che è una sfida davvero complessa, perché vuol dire mettere insieme un modo diverso di amministrare, se vogliamo, e pensare un modo di amministrare diverso del territorio. Un modo diverso perché tiene conto di tutte quelle che sono in realtà con una visione che è più lungimirante, più lunga, se volete. Val di lana l'abbiamo costruito con tanto sforzo e tanta fatica, perché sapete quanto sono lunghe anche le procedure, le dinamiche politiche per riuscire a raggiungere un obiettivo del genere. E siamo convinti, nonostante le difficoltà che abbiamo patito tutti quanti in quest'anno, ma non dimentichiamoci che le amministrazioni comunali hanno dovuto far fronte alla pandemia, a una crisi economico-sociale che è sotto gli occhi di tutti, a un evento luvionale, che anche quello è stato molto significativo e ha creato parecchi danni nel nostro territorio. Nonostante queste difficoltà, siamo convinti che la prospettiva di Val di lana sia riuscita a mettere in piedi una progettualità importante e diversa, perché molte volte le amministrazioni si fermano al programma, alla cosa immediata, a quella del quotidiano. Sappiamo che il nostro territorio arriva da diversi anni, non soltanto al Comune di Val di lana, ma tutto il territorio biellese, da un declino che non è soltanto un declino economico-sociale, ma anche un declino dal mio punto di vista culturale. Abbiamo bisogno di rilanciarci e per fare questo non lo possono fare gli amministratori, non lo possono fare da soli gli imprenditori, non lo può fare da solo nessuno. Abbiamo bisogno di rilanciare un rapporto con i cittadini, che devono venire a stare, che vogliono stare sul nostro territorio e devono diventare cittadini attivi. Noi non abbiamo bisogno di persone che esclusivamente si lamentino rispetto allo quotidiano, ma persone che siano lungimiranti, come lo sono stati nel passato, molte illustre figure, ma anche molti cittadini comuni che hanno fatto diventare grande questo territorio. Abbiamo bisogno della gente, di nuovo, che si riappropri del territorio, si riappropri della volontà di vedere un futuro e questo lo può fare e lo deve fare tenendo conto di quell'aspetto che ha sottolineato prima Paolo, anche della bellezza. Ecco, guardate, io volevo anche rendere presente il lavoro di progettualità che è stato fatto dall'amministrazione di Valdilana, ma per dire che nonostante quello che abbiamo detto prima di difficoltà e di crisi del momento, bisogna lavorare per un cambiamento. Il percorso delle scuole che molti avete sentito sul territorio è soltanto uno degli aspetti, c'è un discorso sanitario, c'è una sfida di un ragionamento di una nuova partnership tra pubblico e privato, secondo quelle che sono le proprie competenze. E attraverso queste idee raccolte il nostro comune negli ultimi 15 giorni ha raccolto 3 milioni e 900 mila euro di finanziamento e l'ha potuto fare perché aveva le risorse per cofinanziare i progetti, ha iniziato a lavorare in un'ottica non soltanto del qui e subito, sfidando il fatto e confidando sulla bontà dei progetti futuri. Quindi risorse davvero importanti che richiederanno un ragionamento sicuramente con tutta la collettività, con le amministrazioni vicine, perché il territorio non è da solo, il territorio vince se si muove tutto quanto insieme e soprattutto con le parti economiche e sociali perché da lì si può ripartire, spendere bene le risorse per crearci un futuro sicuramente importante come il nostro territorio si aspetta. Vi ringrazio, buona giornata. Grazie Mario. Il premio Più Bellezza in Valle nasce da un'idea del Rotary Club di Valle Mosso ed è, rimane, un'iniziativa del Rotary Club di Valle Mosso. Il presidente Maurizio Ribaldone. Grazie Paolo, è gentilissimo. L'idea nasce dal nostro Rotary ma è nata da un cervello che Paolo Piana che l'ha voluta e continua, ed è tutto merito suo se questo premio è arrivato a questo livello. Il Rotary ha una missione, quella di essere vicino al territorio dove risiede. Soprattutto quest'anno abbiamo condiviso con tutto il distretto che il Rotary può intervenire sul territorio a due livelli. Uno è quello ovviamente finanziario, contribuendo e facendo network, ma l'altro è fondamentale, è quello di credere in un territorio e di mettere tutte le risorse di ognuno di noi, per i propri valori aggiunti, a favore del territorio. E questo credo che sia un ottimo esempio di quello che è stato fatto, la capacità di aggregare aziende, enti pubblici e privati tutti insieme con un unico fine. La bellezza, come ha detto prima Paolo, è fondamentale ed è fondamentale perché ha un contenuto culturale. Questo territorio ha bisogno di credere in se stesso, ha bisogno di credere di trovare i suoi valori, riscoprire la sua storia e attraverso questi riportarla anche dando di nuovo un nuovo impulso. E quindi la sensibilità, la bellezza, ci aiuterà sicuramente in questa strada. Ci sono altri esempi che stanno nascendo sul territorio, faccio la fondazione Biellezza che sta nascendo anche adesso, quindi sicuramente tutte queste azioni insieme non potranno altro che aiutare a passare questo momento di crisi e a progredire, cercando di rendere più appetibile questo territorio che ha già in suo contenuto una propensione a un particolare tipo di turismo, a un particolare tipo di attrettività. sta a noi farla sviluppare. Io non direi altro perché ci è stato detto tutt'altro. Grazie Paolo. Grazie a te Maurizio. E tu hai citato la fondazione Biellezza, io sono molto grato a Paolo Zegna che presiede la fondazione Biellezza che è diventata da quest'anno partner del premio. Grazie. Perché siamo diventati partner a parte l'amicizia, il condividere tante cose è perché quello che stiamo dicendo, parlare di bellezza, rendere più bello il nostro territorio, è alla base di quello che è diventato l'obiettivo di Biellezza. La fondazione Biellezza vuole in maniera molto semplice raddoppiare il numero di presenze di turisti. I turisti oggi li attiri se a un certo punto hai degli elementi da vendere e noi ne abbiamo tanti, ma dobbiamo probabilmente un po' spolverarli, lucidarli, evidenziarli, farli conoscere, unirli fra di loro, lavorare di gruppo, perché così la gente effettivamente comincia a guardarci. Partiamo da una situazione difficile, perché il biellese, anche solo guardando la situazione piemontese, è il fanalino di coda a livello di presenze, però siamo in crescita sicuramente maggiore rispetto agli altri territori e dobbiamo pensare che effettivamente è un percorso che abbiamo di fronte a noi, che sarà lungo e dove io credo che ognuno dei biellesi deve sentirsi parte di quello che può succedere. Non sono solo pochi organismi, pochi gruppi, pochi volontari, ognuno può rendere il nostro territorio più bello. Quindi quando noi, due anni fa, quando tu mi invitasti, perché credo che ricevemmo un premio in allora, ci venne effettivamente l'idea di come questo poteva diventare uno stimolo importante perché allargato tutto il biellese, quindi uscendo dalla valle, ma allargandosi tutto il territorio biellese, desse veramente un esempio di come ognuno deve curare casa propria, di come ognuno deve imparare ad accogliere meglio le persone. Oggi le persone vengono se c'è una motivazione. E dobbiamo imparare, dobbiamo cambiare sangue, veniamo da una cultura piuttosto diversa, industriale. Abbiamo fatto dei prodotti sicuramente validissimi, bellissimi, invidiati dal mondo, abbiamo saputo porgerli. Adesso dobbiamo vendere il nostro territorio, continuare creativamente ogni stagione, come nei tessuti, a farlo più bello e poi andare in giro a portarlo per il mondo. E questo lo facciamo se ognuno di noi ci mette del suo. La Fondazione Biellese sta cercando di aiutare coloro che portano delle iniziative, soprattutto se sono iniziative che vengono da gruppi di persone, non da singoli, ma di gruppi che dimostrano di voler lavorare assieme, e da loro un aiuto per fare quel salto e per portare degli elementi pratici e concreti nel miglioramento del nostro territorio. Per questo noi vi appoggiamo, siete un premio di cui andiamo molto fieri, al quale auguriamo futuro ancora più brillante e ancora più globale in tutto il territorio. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Nicola Carrera, mi sono occupato di alcuni aspetti organizzativi del premio. Come avete sentito e come verrà poi meglio ribadito in seguito, il premio è proprio finalizzato al riconoscimento e alla valorizzazione di tutti quegli interventi che hanno determinato in qualche modo un miglioramento paesaggistico del territorio delle valli del Biellese orientale. Il premio è sostanzialmente strutturato in due sezioni, una sezione che è quella edilizia, quindi gli interventi di carattere architettonico, ed una sezione ambiente, che sono gli interventi di carattere invece ambientale. Il premio ha una cadenza annuale e si possono candidare quegli interventi che sono stati svolti negli ultimi cinque anni. Come vedete nell'immagine alle mie spalle, il territorio che è interessato dal premio è piuttosto vasto. Rispetto alla prima edizione, nella quale erano coinvolti i comuni, 13 comuni che facevano parte sostanzialmente della Vallestrona e del Mortigliengo, in questa edizione c'è stato un ampliamento con ulteriori altri 10 comuni. Adesso abbiamo ben 23 comuni che vanno dalla Vallestrona al Mortigliengo fino alla Val Sessara, alle Rive Rosse e alla Vallestrona di Postua. In questi 23 comuni abbiamo poi delle realtà territoriali in cui sono avvenute delle fusioni importanti come Valdilana, come Pettinengo, come Lessona. Gli interventi che sono stati candidati quest'anno sono provenuti dall'85% dei comuni che vedete nell'immagine. Questo dato è significativo perché vuol dire che tutti i comuni hanno risposto in modo adeguato alla nostra iniziativa e hanno mostrato effettivo interesse. E questa risposta significativa è potuta avvenire principalmente grazie alla cosiddetta Rete degli Amici del Premio. Questa Rete di Amici del Premio è stata coordinata in modo, devo dire, magistrale da Pier Beretta, che purtroppo oggi non è presente e del quale porto però i saluti perché ci teneva. In rappresentanza degli Amici del Premio chiamerei sul palco l'architetto Francesco Guerzoni con cui faremo una bella chiacchierata. Francesco, io vorrei chiederti chi sono questi Amici del Premio e qual è stato il loro ruolo nella nostra iniziativa? Allora, gli Amici del Premio sono delle persone che sono state in qualche modo scelte o indicate o per caso vicine a Rotary e che girando nel loro territorio soprattutto per la conoscenza che hanno del loro territorio sono in grado di segnalare delle cose belle delle cose belle che sono state realizzate sia nei due campi quello edilizio e quello naturalistico paesaggistico diciamo per cui hanno poi segnalato alla giuria del premio questi interventi che loro hanno visionato e individuato sul proprio territorio. In quale modo e con quali criteri avete individuato gli interventi in modo tale che fossero conformi a quelle che sono le motivazioni del premio? Diciamo che praticamente essendo noi vivendo sul nostro territorio siamo a conoscenza di quello che è stato fatto che viene realizzato che vediamo intorno a noi e nell'ambito dei vari interventi che sono stati realizzati abbiamo diciamo così preso in considerazione quelle che abbiamo ritenuto più significativi proprio per la promozione della bellezza nelle nostre valli io ad esempio ho individuato due interventi uno di carattere edilizio ed uno paesaggistico quello paesaggistico è un intervento molto semplice fatto dalla proloco di Vire Rivò dove semplicemente hanno preso delle biciclette vecchie le hanno dipinte le hanno posizionate sul percorso da Coggiola a Viera e decorate con dei fiori che vengono mantenuti durante tutta la stagione sia estiva che invernale e questo a chi passa dà subito un segnale di bellezza e di cura un altro intervento che ho segnalato è di tipo edilizio è una ristrutturazione che è stata fatta a Coggiola dove una pasticceria si è trasformata in caffetteria in modo molto elegante molto fine molto bello e questo secondo me ha aumentato in modo significativo la bellezza del nostro paese che purtroppo Coggiola è quello che è ma un po' alla volta cercheremo e speriamo di riuscire a migliorare proprio con interventi che verranno eseguiti sul territorio una volta individuato l'intervento voi informate chiaramente il proprietario il promotore dell'intervento penso che questa sia una parte gratificante sia per voi sia per il proprietario sì sì infatti praticamente una volta che abbiamo individuato l'intervento andiamo a parlare col proprietario o in questo caso con la Proloco o il proprietario della pasticceria lo informiamo di questo premio più bellezza in valle chiediamo se è disponibile a partecipare logicamente nessuno dice di no perché è semplicemente un modo come un altro per rendersi ancora più visibile più diciamo così sotto gli occhi di una platea molto più vasta e comunque la questione della bellezza secondo me è veramente fondamentale sotto tutti i punti di vista Paolo aveva evidenziato in modo particolare come sia bello vivere in un posto bello e secondo me noi abbiamo sia dal punto di vista naturalistico perché abbiamo una natura eccezionale intorno a noi io sono un valsesserino e quindi adoro la valsessare in modo viscerale non andrei a vivere in nessun altro posto del mondo ma proprio perché ci sto bene e secondo me il rilancio dei nostri paesi soprattutto quelli più più disastrati se vogliamo quelli un po' più malmessi come possono essere alcuni paesi della valsessera uno dei quali è il mio possono rilanciarsi a mio avviso in un modo solo io è un pensiero questo che ho da parecchio tempo ma che trovo di difficile realizzazione il fatto di riuscire a far capire alla gente non solo di qui ma soprattutto quelli che vengono da fuori che abitano a Milano in altre città Novara che noi viviamo in un posto meraviglioso che è bellissimo che abbiamo tutti i servizi indispensabili perché abbiamo disposizione ospedali abbiamo disposizione centri commerciali qualunque cosa ma soprattutto dalle nostre parti si sta bene si vive bene e si vive bene in un mondo estremamente bello se noi riuscissimo in qualche modo a far sapere in modo evidente attraverso i media in modo anche proprio clamoroso far passare questo concetto molti penso che verrebbero a vivere da noi noi abbiamo subito il premio è sicuramente uno di questi il premio è sicuramente uno di questi sì va bene mi fermo no il premio è sicuramente uno di questi sì sì ma quello che volevo dire è proprio che questa cosa secondo me è estremamente importante il riuscire a far arrivare alla gente che da noi si può vivere benissimo e penso che riusciremmo a riportare gente nei nostri paesi che nell'arco degli anni sono andati spopolandosi e questo penso proprio che questo possa contribuire a questo mio pensiero e speranza ti ringrazio ti ringrazio Francesco per la testimonianza appassionata è una cosa che mi prende da tempo e penso che il numero di interventi ma soprattutto la qualità degli interventi che avete selezionato dimostra che avete lavorato proprio allineati con quella che è la filosofia del premio e un'altra cosa importante cioè almeno questo è il mio pensiero cioè io ho diciamo così proposto due progetti cioè due cose queste cose non sono arrivate nei primi dieci ma non importa sono contento perché evidentemente ce ne sono altri che sono ancora più belli e questo mi rende felice cioè questa bellezza che è sempre maggiore ecco cioè io ho proposto due cose che a me sembravano belle la bellezza come dicevano prima effettivamente è contagiosa grazie adesso io ringrazio ancora Francesco ringrazio gli amici del premio che hanno lavorato così bene e lascio la parola al presidente di giuria Corrado Panelli buongiorno a tutti io sono il presidente della giuria sono l'orgoglioso presidente della giuria in questi giorni pensavo mi hanno detto devi presentare giustamente la giuria allora cercavo una definizione per ognuno non sono riuscito a trovarla l'unica cosa che mi è venuta in mente è anche perché dicevo i membri della giuria sono anche architetti sono anche paesaggisti anche professori anche anche artisti ma soprattutto sono persone di cultura e persone molto sensibili e li devo ringraziare perché hanno messo la loro cultura e la loro sensibilità al servizio del premio sensibilità e cultura che è differente potrete immaginare sono tutte persone assolutamente senza personalità quindi quando li ho caricati sul pulmino per portarli in giro e valutare tutti gli interventi proposti insomma non è stato facile metterli d'accordo perché ognuno ha la sua visione ognuno ha il suo pensiero e ognuno insomma retrocede con difficoltà perché hanno una grossa personalità però la bellezza alla fine crea condivisione e quindi alla fine visti gli interventi proposti abbiamo condiviso tutti quali poi erano i vincitori e quali erano innanzitutto i dieci candidati e poi i vincitori li facciamo scorrere perché sono persone conosciute però è giusto che vediate chi sono questo sono io sono io che devo andare avanti Elena Cati professoressa agronoma e scrittrice Alberto Barberis Canonico anche industriale e ingegnere Luisa Bocchietto architetto e designer Andrea Schipar architetto e paesaggista Cristina Natoli architetto e funzionario della soprintendenza Michelangelo Pistoletto artista pittore e scultore Andrea Rolando ingegnere professore Giovanni Bacchino anche architetto devo ancora solo dire due parole oltre a ringraziare la giuria voglio ringraziare tutti tutti gli interventi candidati non tanto per essersi candidati quanto per quello che hanno fatto non tutti hanno vinto ma vuol dire che qualcuno ha fatto qualcosa di più significativo comunque che in quel momento ha generato più condivisione nella giuria però devo ringraziarli per quello che hanno fatto perché tutti hanno veramente lavorato per fare il bene del territorio tutti hanno lavorato per fare bene quindi di questo noi non possiamo che dire grazie grazie a tutti e passo la parola la bellezza è un equilibrio risolto che percepiamo intorno a noi attraverso il coinvolgimento dei nostri sensi coinvolge anche gli aspetti culturali nei quali siamo immersi nella bellezza coniughiamo valore aspetto etica estetica ed è per questo che ho una forza coinvolgente alla quale è difficile resistere la bellezza genera condivisione con il premio più bellezza in valle ricerchiamo quegli interventi che abbiano migliorato la bellezza e la qualità del paesaggio con la seconda edizione del premio abbiamo esteso l'area di interesse territoriale al settore orientale del biellese ci sono state parecchie decine di candidati oltre 30 abbiamo selezionato 5 interventi per la sezione ambiente e 5 interventi per la sezione di inizio il giardino per vedere caprile è un giardino delle meraviglie e il visitatore prova stupore quando arriva è un qualcosa di assolutamente inaspettato la cura enorme che la proprietaria ha messo nella gestione di questo territorio lascia stupefatti al santuario della brughiera la cura del paesaggio è continua quest'anno è stato candidato al premio in intervento di miglioramento paesaggistico fatto a cura dei volontari sono state impiantate decine di nuove essenze a fiore che danno un aspetto vivo alla conca e curato a sostegno è stata recuperata una vecchia vigna trappandola con forza al bosco che avanzava cercando la bellezza non cercando la pura resa produttiva che chiaramente ci sarà ma cercando la bellezza il parco il parco Reda Valle Mosso è un gioiello che è stato nascosto e poco utilizzato poco sfruttato per anni e negli ultimi anni l'amministrazione unitamente ai privati ha voluto recuperarlo ha voluto migliorarlo e riportarlo in vita adesso c'è un'associazione che si occupa e finalmente abbiamo un esempio di cura del territorio a carico del privato e del pubblico alla cascina e il faggio hanno creato un percorso di barefooting nel quale il visitatore si trova in contatto con la natura e con il paesaggio e viene un'esperienza sensoriale unica la sistemazione e riqualificazione delle strade comunali in comune di Porto e frazione di Castagnea ha permesso ai cittadini di riappropriarsi di uno spazio sono stati rifatti completamente le pavimentazioni come erano in origine Casareggi si è un gioiello nascosto che è stato dopo anni di abbandono riportato in vita la proprietà mette in connessione la bellezza del luogo con la bellezza dell'arte a Vaglio Pettinengo è stato restaurato l'ex asilo recuperando gli affreschi che ne decoravano le facciate con gli interventi di riqualificazione urbanistica a Casa Pinta sono state rifatte recuperate tutte le pavimentazioni all'interno dei vari nuclei storici e questo intervento ha reso viva la frazione tanto che passeggiando adesso si vedono questi cortili finalmente vissuti con la ristrutturazione del bosco a Trivero Valdilana una casa ormai abbandonata e soffocata dal bosco ha ripreso vita diventando un piccolo gioiello il premio più bellezza in valle è giunto alla sua seconda edizione con soddisfazione della giuria che si è riunita per premiare anche quest'anno i migliori progetti realizzati un premio sempre una duplice finalità quello di premiare i migliori ed è stato difficile individuarli tra la rosa dei selezionati e poi quello di trasmettere un messaggio a tutti non si premia in questo caso il progetto o la realizzazione più eclatante ma quello più bello più coerente e che riesce a trasmettere la passione per il territorio quindi è importante recepire il messaggio che la nostra casa non finisce alla nostra porta ma continua nella strada nei muretti nelle realizzazioni seppur piccole che però contribuiscono a migliorare il paesaggio con questo augurio speriamo che il premio cresca e che le prossime edizioni possono essere sempre più partecipate e dare così avvio a ulteriori interventi di miglioramento e adesso siamo alla premiazione consegniamo una targa ai dieci interventi finalisti e vi chiedo un applauso per Francesca perché è emozionatissima sistemazione e riqualificazione strade comunali con pavimentazione in pietra borgo di Castagnea in comune di Portola premiamo il sindaco Fabrizio Calciaross corrado corrado legge la motivazione la sistemazione delle strade interne a Castagnea ha mantenuto intatto il fascino della frazione senza snaturarne le caratteristiche costruttive storiche restauro ex asilo in comune di Pettinengo premiamo il sindaco Gianfranco Bosso grazie posso dire due parole velocissime no volevo dire che questo tipo di ristrutturazione è stato fatto sostanzialmente con il contributo economico della proloco di Maglio Pettinengo e per questo vorrei che il presidente della proloco di Pettinengo potesse essere accanto a me per così per le foto di rito quantomeno perché il merito soprattutto quello economico e sicuramente della proloco di Maglio Pettinengo ed è giusto questa considerazione che tutti la sappiano insomma ok leggo la motivazione con il restauro delle facciate dell'ex asilo l'edificio ha riacquistato l'originario splendore restituendo nell'uso ai cittadini come centro funzionale e per le attività socioculturali grazie grazie mi metto il problema perché se non vuole grazie grazie riqualificazione urbanistica Borghi del Comune di Casa Pinta premiamo il vice sindaco Danilo Cavasin il rifacimento delle pavimentazioni interne ai nuclei storici ha riqualificato gli spazi dei cortili rendendoli gradevolmente vivibili dagli abitanti ecco come vedete queste targhe hanno quattro fori il sogno del premio è che un giorno i quattro fori servono per avvitare queste targhe all'esterno il nostro sogno è che un giorno il territorio sia diffuso di queste targhe e percorrendolo uno riconosca che questo è un territorio dove la gente tutti noi presta attenzione e premia e riconosce chi si impegna per migliorare la bellezza sarebbe un messaggio ristrutturazione nel bosco frazione Zegna Comune di Valdilana Matteo Scurci Ferreira Vicente Pensavo fossero almeno tre persone con questo nome Una casa abbandonata e soffocata dal bosco ha ripreso vita diventando un esempio di recupero funzionale ben eseguito e siamo al vincitore della sezione edilizia vince Casa Regis Comune di Valdilana premiamo Lisa Margherita Michele Stanbridge Leggo la motivazione l'associazione Casa Regis è nata per valorizzare l'immobile settecentesco a Marchetto di Mosso l'edificio è stato recuperato con grande attenzione mantenendo in tatt le sue caratteristiche originali gli affreschi delle volte i pavimenti e il giardino all'italiano è un esempio di raro pregio l'associazione vi promuove eventi culturali ed esposizioni che restituiscono identità e bellezza a una struttura che era prima dimenticata inserendola nel tessuto culturale che la circonda e collegandola con il resto dell'Italia e con la comunità internazionale attraverso la presenza e lo scambio di artisti contemporanei un intervento che ci fa scoprire valori presenti sul territorio e invita la loro salvaguardia e promozione assolutamente domani c'è il finissage della mostra alle ore 16 siete tutti invitati ok grazie io volevo farti un è stata una piacevole scoperta per tutti incontrarci e vedere questo luogo e siccome c'è una platea vorrei darle la possibilità di lanciare un messaggio a tutti perché possano aiutarvi a continuare il vostro lavoro scusi allora avevo anticipato la cosa per errore ok grazie no effettivamente è un piacere di sfruttare un po' le mie origine che sono americana e gli americani normalmente arrivano solo a Firenze Venezia Roma mai arrivano qua senza un aiuto speciale e a me fa molto piacere collegare artisti stranieri con artisti locali creando questi legami lavoro molto strettamente con una liaison a Los Angeles dove anche lei ha un spazio espositivo quindi cerchiamo di invitare gli artisti di là che vengono qua e viceversa creando questo dialogo internazionale e comunque per lanciare un appello a tutto cioè tutti aiuti possibili del giardinaggio di idee questo posto vive sicuramente attraverso le persone che vengono a partecipare perché io semplicemente ho visto questo luogo in disuso di vent'anni mi sembrava impossibile ho portato l'unica cosa che conosco che è l'arte e quindi mi sembrava naturale ma chiaramente è attraverso l'aiuto di tutti gli artisti Franco Grosso che anche abita a Marchetto e quindi chiaramente sta prendendo forma attraverso l'aiuto e le persone a cui fanno piacere partecipare ecco grazie complimenti per il tuo lavoro e veniamo alla sezione ambiente il primo intervento selezionato giardino belvedere maria teresa località molino a caprile maria teresa prinzo il giardino belvedere maria teresa è un luogo delle meraviglie lo spazio è stato organizzato con cura dalla proprietà e il visitatore ne resta stupefatto grazie 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 alla giuria e a tutti quelli che sono già venuti e che hanno apprezzato tantissimo io sono in stanza anch'io non mi aspettavo un successo così sinceramente l'avevo fatto per me così a un certo punto ho deciso di aprirlo al pubblico ed è servito perché mi fanno un sacco di complimenti quindi mi riempiono di gioia abbiamo inserito recentemente una parte che è legata alla cultura dove presenteremo dei libri e faremo conferenze e c'è anche la biblioteca del bosco quindi chi viene a fare picnic da noi può poi prendersi un libro e leggerlo nel bosco grazie devo dire che tocca un punto importante ciascuno di noi a casa sua pensa di fare delle cose per sé ma in realtà le fa per tutti ed è questo molto bello grazie miglioramento paesaggistico santuario della brughiera in Trivero Valdilana premiamo Mario Lora Lamia al santuario della brughiera l'attenzione al territorio è ripetuta e continua l'intervento di miglioramento paesaggistico eseguito negli ultimi anni rende il luogo ancora più vivo e curato bene grazie ringrazio la giuria per il premio mi preme ricordare però che il vero ideatore e artefice del rinnovamento della brughiera è il rettore Dondino Lanzone che non so se in sala perché era impegnato con le funzioni del pomeriggio grazie percorso barefooting cascina il faggio mosso valdilana Luca Fava D'Alberto con il percorso di barefooting presso la cascina il faggio il visitatore entra in contatto diretto con la bellezza del luogo e della natura vivendo una vera esperienza sensoriale parco reda a Valle Mosso premiamo Marco Carravieri consultore di Valle Mosso un ambiente significativo nascosto e poco utilizzato negli ultimi anni ha ripreso vita grazie alla collaborazione tra ente pubblico e cittadini diventando un luogo curato a disposizione di tutti Mario mi ha detto che ritirava lei perché è quello che ha fatto tutto no io voglio solo dire due brevi parole è che questo intervento è stato fatto grazie a un'idea dell'amministrazione che ha saputo cogliere partendo dal basso le esigenze del territorio quindi siamo partiti dalle associazioni dalle scuole dai cittadini che hanno capito qual era la nostra idea e ci hanno aiutato ciò ha portato alla realizzazione di quello che potete tranquillamente tutti andare a vedere anzi auspico che andiate tutti a vederlo e soprattutto al fatto che adesso è nata un'associazione che sicuramente darà ancora nuovi stimoli al prossimo miglioramento grazie e una serata a tutti e siamo il vincitore della sezione ambiente vince nasce una vigna azienda agricola Lorenzo Rovero a sostegno Lorenzo Rovero la creazione di una nuova vigna in terreni invasi dal bosco è stata possibile grazie alla passione alla volontà del proprietario che insegue la ricerca della bellezza e applicazione delle tecnologie sostenibili è un esempio che riunisce capacità imprenditoriale amore per la natura rivalutazione del passato e desiderio di dimostrare nuove forme di economia possibili le pianificazioni di legno di castagno e acacia fatte a mano le bordure di ginestre di eriche lavande tulipane e narcisi la scelta di non snaturare la morfologia del versante mantenendo la vigna presistente caratterizzano la scelta paesaggistica anche a scapito della pura ricerca della resa economica un'opera ben realizzata che mette in evidenza la bellezza dei luoghi e quindi rappresenta pienamente lo spirito del premio ringrazio la giuria per l'attenzione e il tempo dedicato a questo progetto e molto semplicemente l'obiettivo mio è quello di poter produrre vini naturali biologici e valorizzare un territorio un patrimonio che abbiamo che è quello delle nostre colline del nostro territorio della natura ti faccio anche una domanda noi abbiamo visto tutta la passione che hai messo in questo lavoro le difficoltà ci hai raccontato anche che hai incontrato che stai incontrando quali sono a breve i tuoi obiettivi il vino certamente ma riguardo alla vigna quali saranno i prossimi step del lavoro finire la vendemmia che mancano pochi giorni che è stata un'annata molto complicata per diversi motivi e poi poter allargare e continuare a togliere parti di non bosco per poterle sostituire a pezzi di terra sempre più produttivi e più belli sarebbe bello anche forse un domani poterla aprire alle visite se non fosse recintata per motivi che sappiamo motivi purtroppo non dovuti alla mia volontà perché la mia volontà era renderla accessibile a tutti anzi sia agli invasioni dei cinghiali cinghiali caprioli tassi questa natura che è difficile da contenere va bene complimenti ancora per la passione grazie grazie mille a tutti grazie grazie mille grazie a nome di tutta la giuria volevo semplicemente aggiungere che si dice sempre l'importante è vincere oppure l'importante è partecipare qui effettivamente l'importante è vincere perché c'è un vincitore e non si possono dare i premi a tutti però è proprio vero che è importante partecipare perché tutti questi sono esempi che ci fanno imparare e i concorsi sono sempre anche una palestra per imparare qualcosa impariamo noi giurati imparano i partecipanti dal confronto tra di loro e imparano anche i promotori gli organizzatori quindi fare un premio è un valore aggiunto per tutto il territorio al di là dei risultati fisici che tutti ci aspettiamo migliorino rendano sempre più bella la zona in cui viviamo e che amiamo quindi grazie davvero a tutti i partecipanti e complimenti a tutti per la passione che mettono nel fare le cose nel promuovere la loro attività ma anche la bellezza del territorio grazie grazie a te Luisa un altro grazie io vorrei portarlo agli sponsor gli sponsor del premio sono Banca Sella Selmat Carlo è qui Orange Peaks e Yukon e poi abbiamo un main sponsor che è il gruppo Reda Elisabetta Botto grazie Paolo dimenticavo Elisabetta Botto è presidente del consiglio di famiglia si dice così grazie grazie Paolo allora io sono veramente orgogliosa di essere qua oggi a rappresentare la nostra azienda e la mia bellissima famiglia per me è davvero una cosa bella quella che ho visto fino adesso bellissima vedere il nostro territorio che è migliorato e può migliorare ancora quindi quando Paolo ha chiamato mio fratello Ercole e ci ha proposto di partecipare a questo progetto abbiamo capito subito i benefici che poteva avere il territorio da questa iniziativa perché per noi che siamo cresciuti in questa valle è sempre stato importante far vivere bene le persone che ci lavoravano e questo può portare solo a dei risultati positivi per tutti quanti e quindi bravi veramente per questa iniziativa mi fa piacere mi farebbe piacere premiare chi ha vinto il nostro premio giusto Paolo? c'è una leggera emozione vuoi dire perché sei emozionata ad essere alla brughiera? eh sì perché mi sono sposata 22 anni fa proprio qua oggi 9 di ottobre infatti mio fratello mi ha fatto questa bella sorpresa mi ha detto vai tu oggi bene la giuria non ha l'obbligo di aggiungere un premio a quelli che avete appena visto però ha la facoltà di premiare qualcuno che al di là di un intervento ha speso la propria vita il proprio tempo la propria attività su questo filone di pensiero con la missione di recuperare la bellezza e quindi il premio Reda per la bellezza si rivolge a quelle persone o strutture per le quali non avrebbe senso considerare una cosa che hanno fatto ne hanno fatte tante quest'anno il premio Reda va al Dogby e qui c'è il presidente Marcello Vaudano bravissimi bravissimi grazie alla giuria grazie all'azienda e grazie a tutti voi per un premio che naturalmente ci inorgollisce ci lusinga e effettivamente è un premio alla carriera possiamo chiamarla così anche se è una carriera che certamente non vuole concludersi qui in questa giornata ma davanti ancora una prospettiva di crescita i nostri prossimi 36 anni li celebreremo magari ancora qua appunto tra 36 anni da questo momento li celebriamo anche per noi in un luogo speciale però perché la brughiera rappresenta un po' come dire il punto di partenza di tutto perché è da un gruppo di giovani che amavano questo territorio e che già nei primi anni 80 hanno dato vita delle esperienze di recupero ambientale in Alta Val Sessera hanno dato vita delle esperienze di studio e di catalogazione del patrimonio artistico votivo e non solo votivo anche di pittura morale religiosa nel Triverese sono giovani che si sono avvicinati all'archeologia industriale e hanno trovato alla fabbrica della ruota il loro punto di espressione bene quei giovani hanno deciso di organizzarsi e di dare vita a questo sodalizio che come dicevo ha compiuto ormai 36 anni e ritorniamo da capo quindi la brughiera come l'ombelico da cui tutto si è mosso e a cui adesso oggi tutto ritorna per ripartire e lasciatemi però dire non voglio stare qui a fare l'elenco delle cose che abbiamo fatto sarebbe davvero oltre che lungo ma certamente inappropriato fatemi soltanto dire un'altra cosa per me che attualmente sono come si dice pro tempo presidente del dogby questo riconoscimento non può che essere un tributo un tributo in modo speciale per una persona che è stata la mente il cuore le braccia di tutta questa grande attività che è stata svolta una persona curiosa una persona assolutamente dedita in maniera disinteressata al bello e al buono del proprio territorio e quindi è anche da parte mia che lo ringrazio e Giovanni Bacchino naturalmente magari prima dell'intervista facciamo passare un video così la storia del doc mi è un po' raccontata postipite e pietra fondante la figura di Giovanni Bacchino che per 30 e più anni è stato presidente e oggi è ancora interno all'associazione è ancora il motore e il ideatore di tante delle iniziative che si svolgono e che continuano ad essere portate avanti da un gruppo di persone che ha condiviso con lui lo spirito iniziale del dogby ovvero quello del servizio un servizio particolare che è quello di carattere sociale ma soprattutto portare avanti difendere promuovere i valori della cultura bietanile di carattere di carattere . Ecco, io... è questo per i miei immagini? Dico solo che per me è davvero un orgoglio premiare la vostra associazione. Io ho avuto la possibilità di visitare ben due volte la fabbrica della ruota che consiglio a tutti quanti di andare a vedere e quindi quando ho saputo chi era il vincitore ho detto sono davvero complimenti per tutto quello che fate per il territorio, davvero. Grazie. 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 questa multistraticità dello studio, della ricerca in quel campo. Però forse altri risponderebbero a altre cose, ci sono storici dell'arte che sicuramente risponderebbero che una parte dei nostri, c'è le centinaia di restauri, quelli più importanti, quelli che hanno avuto a che fare con capolavori veri, come la Madonna del Carmine, la statua linea che c'è alla parrocchiale di Trivero, di Giovanni Pompeo Mainolto, di risponderebbero a quella, è la grande soddisfazione. Ripeto, è impossibile fare una classifica. Sergio Trivero l'avrebbe risposto i vent'anni di studio relativi al patrimonio votivo oropense e di tutti gli altri santuari della provincia. Molte anime, molti valori, molti modi di valutare. E ancora una domanda, ma avete qualcosa nel cassetto che non sappiamo e che ci volete dire? Nel cassetto, soprattutto nella testa di Giovanni, sta a non muore un mondo di cose, un mondo di idee, il riuscire a realizzarle è un altro discorso, naturalmente noi come associazione di volontariato dobbiamo fare i conti con delle risorse che non sono proprio così ingenti e che a seconda dei momenti ci condizionano anche pesantemente. facciamo l'appello allora di sostenere il dogme, anche noi, molti di voi saranno soci, ma se non lo siete ancora fatelo perché è un modo per sostenere le cose che abbiamo visto e abbiamo detto. Paolo vuoi chiedere qualcosa? Grazie, grazie Elisabetta, grazie mille. E siamo a una chiacchierata con tre illustri personaggi che ci aiuteranno a ragionare su quanto vale lavorare per la bellezza. Chiamo il professor Valentino Castellani, professore universitario, ingegnere, professore universitario, prorettore al Politecnico di Torino. è stato sindaco della città di Torino dal 93 al 2001, ha avviato un processo di trasformazione urbanistica della città con l'aduzione del nuovo piano regolatore e un piano di recupero delle aree ex industriali dal passante ferroviario e della realizzazione della metropolitana. Sintetizzo evidentemente, abbiamo diffuso un po' più di dati e di informazioni, ma sarebbe una lista troppo lunga. Roberta Ceretto, presidente responsabile della comunicazione dell'azienda Vitivinicola Ceretto, del rispetto del territorio ne hanno fatto un must, la famiglia Ceretto ne ha fatto anche una questione etica e morale puntando su un tipo di agricoltura biologica e biodinamica, senza però rinunciare all'innovazione, alla bellezza e all'arte, come dimostra l'antico casolare ottocentesco di proprietà trasformato in una cantina dal design moderno o ancora la celebre cappella del Barolo dipinta da Tremlett e Leuit. Maurizio Di Robiland è presidente fondatore di Italia Patria della Bellezza, una fondazione il cui credo è di costruire un'identità competitiva per l'Italia grazie al suo potenziale di bellezza, risorsa di sviluppo economico e sociale, al fine di contribuire al rilancio del Paese. inoltre è presidente fondatore di Robiland Associati che è un SPA, la società di brand advisory e strategic design che ha rinnovato e curato alcune delle marche più famose del Paese. benvenuti e grazie, beh, visto che le hanno dato il microfono parto da lei, no, no, il signore prima. dal sito si legge siamo mecenati delle arti, produttori di torrone, narratori di storie, venditori di vino. Pensate, vent'anni fa nessuno avrebbe descritto in prima pagina la propria azienda, se non mettendo, produco vino di questo tipo, di quest'altro, da questi vitigni. invece qui ci sono due aspetti materiali ma ce ne sono due immateriali. La ricerca della gradevolezza e del benessere anche così intellettuale, vorrei dire, del vostro cliente, nella vostra idea, quanto vale nella vostra idea di fare business? Beh, allora, innanzitutto, grazie per questo invito, ho scoperto veramente un luogo meraviglioso e gli interventi che ci hanno preceduto mi hanno aperto tantissime parentesi e mi piacerebbe indagare ancora di più. Dunque, sì, io nello specifico poi sono quella di famiglia che si occupa veramente delle cose meno materiali, perché non seguo la produzione, noi, se chiunque chiede a un membro della famiglia Ceretto qual è il nostro lavoro, fondamentalmente ci sentiamo ancora produttori di vino, infatti, diciamo, produciamo vino. Poi, nella realtà, negli ultimi vent'anni, appunto, abbiamo iniziato a fare qualsiasi cosa, ristorazione, restauri, in maniera piuttosto creativa, abbiamo iniziato a investire nell'arte contemporanea in maniera bulimica, però, fondamentalmente, siamo produttori di vino. Io seguo tutto quello che è il resto, e per cui, nel momento in cui ho trovato il mio spazio in questa famiglia e credo che qua molti di voi mi possano capire, perché siete una realtà dove le famiglie hanno ancora una certa presenza e un certo valore, ho cercato di dare il mio contributo, ma non avendo nessuna esperienza in quello che era la parte manuale e produttiva, ho cercato di contribuire con la creatività. Non sono un'artista, mi piacerebbe, però, partecipare l'anno prossimo al viaggio in pulmino con la sua giuria, perché veramente, io guido il pulmino, ma è incredibile. Però, ho cercato di contribuire cercando di dare un aspetto un pochettino più leggero a quello che era un lavoro estremamente pragmatico. In realtà, noi veniamo da un territorio che, detto ora, sembra il paese del Bengodi. Io, quando ho iniziato a lavorare, in realtà, nel 99, le langhe non erano quelle che tutti adesso conoscono e invigliano. È stato un desiderio collettivo di investire sul territorio credendo nelle potenzialità che questo territorio sapeva esprimere. un territorio che, come il vostro, è straordinariamente bello, non aveva però avuto un passato con delle famiglie lungimiranti che avessero investito in arte e in cultura. E quindi, forse, un ragionamento che noi, che la mia famiglia ha voluto fare è proprio quello di introdurre la cultura come elemento propositivo per il territorio. Noi lo abbiamo fatto in maniera forse inconsapevole a partire dagli anni Ottanta quando abbiamo iniziato a fare un restyling delle etichette e il Tord de Robila mi capirà perché le etichette sono poi il nostro biglietto da visita al di là della qualità che poi esprimono i vini e questo ha cambiato la percezione su quello che volevamo fare. Abbiamo iniziato da lì a capire che la bellezza poteva contribuire in maniera significante a promuovere il nostro lavoro e quindi anche le nostre cantine sono state in base di bellezza. Noi siamo intervenuti in alcuni ambiti proprio dal nuovo partendo da zero a costruire delle cantine nuove per esempio la cantina che abbiamo nella denominazione del Barolo che nell'82 è stata costruita ad hoc ma in maniera estremamente moderna in un territorio che esprimeva grande tradizione per cui siamo stati visti come dei pazzi adesso dei visionari prima come dei pazzi e poi siamo incempati nell'arte contemporanea e questo ha creato in noi il desiderio di portare sempre maggiore bellezza partendo però da un'attività dove in maniera inevitabile noi dobbiamo trattare le nostre vigne in maniera attenta e curata per cui sono lavorate in maniera ancora più meticolosa rispetto a quello che occorre trattare un giardino ma per una questione meramente funzionale è più semplice per noi produrre della buona uva se la tua vigna viene lavorata in un certo modo Sindaco parlando di territorio lei si è trovato a lavorare su aree degradate periferie qual è stata la sua esperienza guardi intanto la ringrazio di avermi coinvolto in questa bella occasione e saluto in particolare i colleghi sindaci che sono stati anche protagonisti di molti di quei progetti guardi io penso che l'attenzione alla bellezza sia un come dire un creatore di senso di appartenenza nelle comunità le comunità sono fatte naturalmente di un luogo le aree urbane non sempre sono dei luoghi belli sono fatte di costruito quindi di tutto ciò che caratterizza quel luogo ma sono fatti soprattutto di persone il vero capitale la vera risorsa di un luogo di una comunità è il capitale umano e il senso di appartenenza è quello che crea futuro perché le persone che stanno bene in un luogo sono quelle che poi fanno gli imprenditori oppure diventano sindaci oppure fanno bene il loro mestiere io vi racconto una piccola storia perché invece di fare grandi teorie io sono all'origine un ingegnere ormai in crisi di analfabetismo di ritorno ma vi racconto una piccola storia nella seconda metà degli anni 90 nel mio secondo mandato a Torino abbiamo lanciato un grosso progetto che si chiamava progetto speciale periferie cioè ci siamo fatti carico del problema delle periferie guardate quando si parla di periferie in una città non necessariamente si vanno a toccare i luoghi più lontani geograficamente spesso quelle periferie stanno anche nel cuore della città bene a Torino ce n'era una molto piccola per quelli che conoscono Torino via Arquata e in via Arquata vicino alla ferrovia nella fine degli anni 20 mi pare nel 1927 era stato costruito un piccolo villaggio di case che oggi diremmo case popolari allora non si chiamavano così in cui abitavano le famiglie dei ferrovieri era un bel se voi lo guardate in pianto o lo guardate dall'alto è un bel progetto un bel intervento urbano questo alla fine degli anni alla fine del secolo cioè 60 anni dopo la sua costruzione era diventato un ghetto urbano abitato da famiglie povere con nessuna o scarsa manutenzione del costruito insomma un luogo veramente veramente sgradevole e lì scoppiò una specie di piccola rivolta perché bisognava fare da parte dell'agenzia della casa bisognava fare la manutenzione delle caldaiette del riscaldamento quindi io quando sono andato là in quel posto le caldaiette buttavano giù le cose dalle finestre quindi decidemmo di inserire quel pezzettino di città dentro il nostro progetto periferie attingemmo a delle risorse nazionali in questo caso si chiamavano contratti di quartiere si investirono circa una ventina di milioni e si fecero tutta una serie di interventi di manutenzione fu creata una piccola biblioteca un centro di incontro insomma se voi andate oggi in quel posto in quel pezzo di città non è il paradiso ma confrontato con quello che era vent'anni fa è cambiato molto perché vi racconto questa piccola storia perché quelle case quelle case che erano state costruite all'epoca siamo all'inizio del secolo non nei primi decenni del secolo erano state come dire vestite no di una come dire una un po' di arte liberty le finestre avevano le loro cornici c'erano tutta una serie di diciamo di decorazioni sui muri c'era un posto molto gradibile il recupero il restauro che noi abbiamo fatto abbiamo messo in primo luogo anche questa parte del recupero per cui tutta quella quella diciamo quella zona costruita è stata recuperata come era al momento della sua dei suoi inizi no quindi con questi recuperi liberty quando io sono andato alla festa del diciamo della della fine dei lavori chiamiamola così no ho incontrato un gruppo di persone un gruppo di abitanti persone anziane ragazzi giovani insomma un po' di gente no e io mi aspettavo che mi ringraziassero per la biblioteca per le caldaiette che funzionavano per il centro di incontri eccetera e una signora anziana che probabilmente era vissuta lì da bambina mi ha detto una frase che adesso io non ricordo letteralmente ma insomma il senso di quella frase era quello sindaco dice sembra di stare in piazza castello allora non è vero no perché piazza castello è una piazza barocca è tutta un'altra cosa ma è una piazza bella allora queste persone si sono riconosciute nella bellezza di quell'intervento che naturalmente aveva comportato con sé anche tutte le altre cose che io vi ho detto no cioè la bellezza costruisce senso di appartenenza crea comunità no e allora la bellezza è fatta di dettagli quando si cambia una panchina no in un giardino non può essere una panchina solo funzionale deve anche essere bella no quando ecco e io sono molto contento questa sera di stare qui e di avere assistito anche al premio assegnato dei sindaci per la cura per esempio ho visto quel recupero delle strade in quella borgata insomma mi pare che siano segnali molto importanti questo questo patrimonio immateriale no in realtà non è un lusso è un elemento di sviluppo fondamentale perché laddove si crea bellezza no laddove si crea qualità della vita e si diventa attrattivi no chi vive lì l'imprenditore che vuole aprire un'attività ebbe preferisce andare in un posto così piuttosto che in un posto qualunque no ecco allora e concludo credo che valorizzare no questo approccio sia davvero no un un grande un grande modo di guardare e di costruire futuro e io quindi mi congratulo con dottor Piana che mi pare che sia un po' la mente e il motore naturalmente insieme a Rotary di Valle Mosso grazie ma siamo in tanti Maurizio Di Robilan è il fondatore di Italia Patria della Bellezza sono stato qualche tempo fa nei suoi uffici e c'è un manifesto che mi sono annotato costruire l'identità competitive dell'Italia per contribuire al rilancio del paese trasformando il suo straordinario potenziale di bellezza in una risorsa strategica di sviluppo economico e sociale per fare dell'Italia la patria della bellezza dico ma la stessa guardo Nicola è la stessa mission che ci siamo dati noi quando abbiamo incominciato a pensare al premio buonasera grazie di avermi invitato grazie di questa testimonianza quasi mi commuovo io sono anni che combatto questa battaglia convinto che ci sia un potenziale in questo paese che non tutti vedono che non tutti capiscono che non tutti apprezzano che non tutti sanno percorrere essere qui stasera è come scoprire che in realtà c'è speranza che in realtà succedono cose anche in luoghi poco noti come qui per me nel caso mio e dove invece si manifesta il senso e la voglia di ritrovare la bellezza e guardate che la bellezza non è solo paesaggio e costruzioni ma la bellezza è persone la bellezza è armonia chi trova bellezza trova pace nella propria anima c'è un bellissimo libro di del professor Zoya che si chiama giustizia e bellezza io ve lo consiglio tutti è un librettino grande così dove si scopre che dove c'è bellezza c'è giustizia e dove non c'è giustizia non c'è bellezza mi leggo un po' a quello che diceva il sindaco quelle finestre rimesse a posto al di là di far sentire l'essere di quel luogo e quindi la radice ma sono la cura sono l'attenzione sono il rendersi conto che piccole cose danno valore penso sempre che questa nostra capacità di produrre bellezza poi ne parliamo più a fondo ma penso sempre ai ragazzini nelle chiese delle piazze dei nostri paesi che giocano a palla e la palla va a battere contro un basso rilievo della chiesa che ci dì davanti la bellezza per noi è qualcosa che è così profonda che purtroppo non la vediamo cioè molto spesso noi non ce ne rendiamo conto il giardino del vicino è sempre più verde e per noi lo è più che per molti altri paesi quindi vedervi qua questa sera ascoltare quello che ho ascoltato vedere quello che ho visto mi riempie di speranza nel senso che anche piccole comunità come la vostra quando guardo la cartina e vedo i comuni è una bricciola del nostro paese eppure in quella bricciola siete stati capaci di attivare una sensibilità intorno alla valorizzazione del bello quindi è molto bello vedere questo ed esserne testimoni e rafforza anche il desiderio di andare avanti a fare un grande progetto visionario che faranno i miei nipoti ma non importa bisogna portarlo avanti però vedere voi certamente dà fiducia identità competitiva se io dico the American dream l'American dream è l'identità competitiva degli Stati Uniti ancora oggi gli Stati Uniti sono tra le tante cose che fanno ma sono indubbiamente il paese che parla di innovazione al mondo perché l'idea di superare la frontiera l'idea di andare sempre avanti è radicato nella loro cultura per cui in America se qualcuno fallisce c'è subito qualcuno che ti aiuta e ti fa ripartire perché fallire è positivo da noi se qualcuno fallisce non ti parlano neanche più allora in quel paese l'idea dell'innovazione è innaturato alla loro cultura se chiudete la portiera di una BMW o di un Audi risuona la Deutsche Skalität e sappiamo che quella capacità tedesca li rende unici al mondo se vedete uno scudetto rosso con una croce bianca sopra dovunque l'ho andata ad apporre quel servizio quel prodotto quell'esperienza vale 20% in più perché gli svizzeri sono reputati sono forti sono credibili e XYZ allora ci sono pochi paesi che hanno un'identità competitiva chiara se vi dico non so io il Belgio ma il Belgio è carino ma abbiamo proprio bisogno del Belgio e di questi ne potrei dire tanti altri adesso il povero Belgio non ce l'ho col Belgio ma è solo per dire non si sa nemmeno dov'è c'è un altro aspetto che trovo straordinario il nostro paese è il paese che ha il disegno geografico più unico al mondo se tu vai sulla luna e guardi l'unico paese che sa esattamente dove è il nostro ci sarà un perché però voglio dire l'identità competitiva aiuta i paesi a posizionarsi nel mondo hanno una forte reputazione sono ambiti la gente ci investe i turisti ci vanno i prodotti vengono comprati e così via allora non è è fuori dubbio perché ne abbiamo parlato fin qua che l'identità competitiva di questo paese è la bellezza perché la produciamo perché ce l'abbiamo da che mondo è un mondo perché dovremmo saperla proteggere meglio e promuovere meglio ma indubbiamente ce l'abbiamo siamo il primo paese al mondo per siti UNESCO il secondo è la Cina mi sono preso la briga di guardare i 55 e i 53 della Cina la prima cosa che noti è che le nostre le raggiungi in bicicletta in Cina ci vuole un aeroplano per raggiungere ciascuno il secondo è che il peso culturale dei nostri per rapporto a loro è incredibilmente più importante e più pesante quindi questo aspetto della bellezza che ci identifica se noi la capiamo meglio e se noi la agiamo sul serio diventa l'elemento per il quale la gente vuole venire in questo paese vuole investire vuole vedere come si può sviluppare e così via abbiamo fatto una ricerca in sei paesi che sei paesi diciamo non quelli più importanti ma i paesi in via di sviluppo chiedendo quali erano le prime dieci parole legate all'immagine all'immaginario della bellezza beh è incredibile ma per tutti la prima parola è bellezza il Brasile ci ha messo prima la pizza ma insomma subito dopo c'era la bellezza allora un'operazione di marketing tende a trovare nei mercati il luogo in cui posizionare un prodotto un'azienda una cosa di questo genere ed è difficile perché c'è molta competizione nel caso nostro siamo in quello che si chiama un mare blu la bellezza per gli stranieri è rappresentata al 90% del nostro paese quindi abbiamo una strada in discesa in giro per il mondo nel raccontare qualche cosa in cui tutti credono dobbiamo però testimoniarla dobbiamo gestirla dobbiamo proporla dobbiamo proteggerla quindi c'è molto lavoro da fare ma siamo in una posizione ideale per fare questo lavoro quindi benvengano queste cose e benvengano in tutto il paese noi con la fondazione stiamo proprio premiando non in un paese specifico ma in tutto il paese tutte le attività che vengono dal basso e qui la fermo perché poi ce lo spiega meglio se mi hai dato un bicchier d'acqua sarei felice grazie grazie facciamo un'altra tornata perché il vostro concorso ce lo deve spiegare meglio Roberta io vorrei che tu mi chiarissi un dubbio per me tu qui sei quella del business cioè voi fate business vorrei capire quello che spendete in arte in bellezza ma rende ci puoi dare dei numeri cioè vale la pena o è proprio solo un'idea da mecenati avessi dovuto rispondere a questa domanda vent'anni fa avrei detto che non valeva la pena perché obiettivamente quando noi abbiamo ristrutturato la chiesina con i lavori di Sol Hewitt e David Tremlett io sono stata letteralmente presa dai produttori più storici che mi hanno invitata non a una classica degustazione ma mi hanno appesa a un muro dicendo che cosa state facendo siete degli ingrati non è questo che si fa è uno sfregio al territorio morale dopo vent'anni noi ci troviamo in una situazione esattamente opposta perché quell'oggetto è diventato un luogo talmente di culto per il nostro territorio allargato che in un anno porta centomila persone e quindi è diventato un oggetto che addirittura la regione Piemonte utilizza come immagine di un Piemonte che è creativo che ha coraggio anche di affrontare delle nuove sfide cosa ha portato a livello economico alla famiglia Ceretto obiettivamente zero perché poi noi l'abbiamo pensato veramente per essere condiviso quello è un edificio che probabilmente il 50% delle persone che va a visitarlo nemmeno sa che l'abbiamo realizzato noi ma questo non era nostra intenzione sbandierarlo in maniera così pubblica noi l'abbiamo pensato proprio perché ci piaceva l'idea di sperimentare questa nuova cosa con l'arte contemporanea al netto di tutto a noi adesso ha creato una reputazione diversa se proprio dobbiamo dobbiamo dirlo per cui siamo produttori di vino che hanno un'attenzione particolare per il loro territorio e quindi una cura non solo per il prodotto ma dimostrano una riconoscenza per le colline che li accolgono quindi dal punto di vista economico niente però dal punto di vista dell'immagine e dell'apprezzamento della famiglia Ceretto sul territorio e per il territorio ha significato veramente tanto tant'è che noi di progetti simili ne abbiamo perché poi obiettivamente quando inizi ad appassionarti all'arte non torni più indietro un po' perché gli artisti sono delle persone che ti danno delle prospettive diverse e le cose e la realtà la vedono con un occhio completamente diverso da quello di un imprenditore sono una fonte di spunto e di idee sempre nuove e da coltivare e quindi dopo dieci anni che abbiamo sperimentato con grande successo anche delle mostre perché abbiamo ospitato degli artisti che obiettivamente a volte fanno fatica anche i più grandi musei ad avere tra i loro ospiti a partire dalla Marina Abramo i Chansen Kiefer Francesco Clemente alcuni di loro sono anche di casa perché poi alla fine noi accogliamo tutti e noi li prendiamo anche per la gola forse è elemento che è un valore aggiunto per i nostri progetti però ci siamo resi conto che ci piaceva l'idea di intervenire sul territorio creare sempre qualcosa di più bello che sottolineasse e rendesse ancora più belli certi panorami per cui a breve mannaggia gli ultimi due anni non c'è stato possibile perché poi gli artisti che questa volta abbiamo coinvolto non sono italiani diventava difficile spostarli in Italia però il prossimo obiettivo è quello di ristrutturare una parola grande però abbiamo acquistato una collina fa ridere però abbiamo acquistato una collina dove pianteremo un vigneto e questo vigneto sarà corredato da opere d'arte che verranno curate da diversi artisti quindi chiamiamolo parco artistico chiamiamolo non lo so un percorso però l'idea è quello di valorizzare ulteriormente un luogo che è già molto bello di per sé perché comunque la vigna è una coltivazione molto curata di elementi ancora più di valore aggiunti grazie all'opera di artisti questo nesso questo nesso tra il business e il territorio vedo là in fondo Luca De Marchi sono sicuro che per lui è musica perché lui che è sta facendo molto bene qui nella zona dell'Essona ha già fatto e continua a fare molto bene lui dice sempre posso fare tantissimo ma se non migliora il territorio tutto quello che faccio io non basta il territorio deve io devo viaggiare col territorio e il territorio spero che viaggi con me ma infatti le langhe sono migliorate sensibilmente come percezione nel momento in cui si è innescato questo meccanismo di emulazione positiva ovvero i produttori più storici sono diventati un po' le mete da raggiungere per le nuove generazioni e quindi quando i produttori hanno iniziato a fare bene i giovani hanno cercato veramente di corrergli dietro quindi il nostro è diventato un territorio veramente straordinario dal punto di vista della produzione enologica ristorativa ma anche il paesaggio perché forse la mia famiglia essendo una delle più storiche ha iniziato prima ma nel momento in cui abbiamo iniziato a ristrutturare le cantine anche in chiave moderna quindi in maniera coraggiosa perché appunto c'era il peso di questa storicità e sembrava che nessuno potesse uscire dal 1800 noi abbiamo in maniera involontaria innescato un meccanismo e adesso sono veramente tante le cantine che sono aperte innanzitutto e non è una cosa banale perché vent'anni fa non lo erano e tante sono straordinariamente belle ecco sindaco Roberto ci ha appena detto come siano lunghi i tempi per convincere la gente e un recupero di bellezza in un territorio non si ottiene se non si fa partecipare tutti se non contribuiscono tutti nella sua esperienza come si può fare per accelerare quest'operazione di convincimento eh questa è una bella domanda ma io credo che tutti diciamo tutte le persone che si trovano come diceva prima il presidente del doc pro tempore ad avere la responsabilità di governo di una qualche parte del territorio hanno una funzione pedagogica molto importante no e quindi devono farsi carico eh di questo obiettivo cioè di educare alla bellezza ehm io posso anche qui citare qualche piccola storia no qualcuna riuscita bene qualcuna meno bene ma sempre in quel famoso progetto periferie di cui parlavo prima uno dei grandi interventi degli interventi più cospicui è stato quello che abbiamo fatto nella zona di Mirafiori Sud no via Artom dove come probabilmente molti dei presenti in sala sanno che sono state demolite le due torri insomma è stato fatto allora lì per appunto educare la bellezza abbiamo fatto all'epoca un programma con le scuole per diciamo per coinvolgere i bambini e le bambine i bambini e le bambine sia delle scuole elementari che delle scuole medie quindi ragazzini no a progettare la piccola piazza che si faceva nella zona di Mirafiori Sud no insieme agli architetti insieme naturalmente con un team di facilitatori cioè queste cose poi guardate non si improvvisano cioè non è che coinvolgere i bambini e le scuole ci vanno dei professionisti di questo di questo tipo di lavoro e beh insomma quei bambini sono diventati sono passati vent'anni o circa oggi sono probabilmente anche diventati dei padri di famiglia ma quella piazza lì la sentiranno loro no quindi bisogna io credo che ecco l'unica ricetta che mi sentirei di segnalare no per la sua domanda è l'educazione alla bellezza non è si comincia da piccoli si comincia appunto a a coltivare il dettaglio no anche nella propria vita privata e un'altra esperienza che posso citare e che secondo me è positiva per alcuni aspetti apparentemente lo è meno per altri quando abbiamo approvato il piano regolatore e sapete che il piano regolatore di Torino è basato su questa idea della spina centrale è stata interrata la ferrovia e lì è diventato un grande viale che da nord quasi a sud insomma comunque attraversa la città ed è un viale di attraversamento urbano abbiamo deciso di dedicare una parte come peraltro prescriverebbe la legge perché quando si fanno degli interventi di un certo livello nelle città e tutto una piccola percentuale dell'intervento dovrebbe essere dedicata a opere d'arte e cose del genere non so quanto sia applicata questa cosa noi decidiamo di farlo e scegliamo come obiettivo l'arte contemporanea chi è stato a Torino sicuramente avrà visto la fontana di Merz l'iglù che c'è che compare anche in tanti quello è uno dei avevamo previsto una decina di interventi i fondi poi ci hanno costretti a fermarci all'epoca mia a due poi se ne è stato aggiunto un terzo questa cosa a parte l'iglù di Merz che è abbastanza suggestivo le altre opere sono come tutta l'arte contemporanea non ci siamo non siamo molto acculturati nell'arte contemporanea e quindi hanno qualcuno che dice che è una schifezza qualcun altro che invece è entusiasta ma insomma l'arte contemporanea è così no? allora c'è e concludo c'è una responsabilità di educativa pedagogica che hanno i responsabili delle comunità quindi in particolare i sindaci no? per educare alla bellezza quindi più che convincere no? dottor Piana io userei proprio la parola educare no? e quello come noi sappiamo è un processo lento è un processo di accumulo non è che da un giorno all'altro no? uno anzi non ha mai finito in realtà e però ecco mettersi in questo percorso di accompagnamento della propria comunità ad apprezzare la bellezza io credo che faccia parte dei compiti anche di chi ha responsabilità di gestire la comunità ecco ci racconta il vostro concorso perché è bellissima bellissima l'idea e poi ho trovato molto originale il premio sì volevo dire una cosa credo che la famiglia Ceretto e la marca Ceretto abbia guadagnato molto da quello che ha fatto non è vero che è zero è vero che l'immagine la credibilità la qualità di quello che la famiglia Ceretto fa è un valore aggiunto che porta valore reale la bellezza se tu la sai portare se tu la sai proporre è attraente è qualche cosa che seduce è qualche cosa che stupisce la meraviglia davanti alla bellezza che può essere una farfalla su un fiore o una bella valle o un meraviglioso un meraviglioso vitigno o un'opera d'arte contemporanea ti può piacere o meno ma questo puoi dipenderci ciascuno credo che l'operazione che ha fatto Ceretto e che l'ha cominciata molto tempo fa si sia riversata come un valore aggiunto che è tangibile l'azienda Ceretto certamente non fattura quello che fatturava vent'anni fa ma certamente va meglio di così questo per dire che la bellezza quando è autentica quando è parte di una cultura diventa anche produttrice di sviluppo non è soltanto un piacere farla per questo che diciamo che appunto è un'identità competitiva per noi perché noi quella la sappiamo fare meglio degli altri e le dimostrazioni del Made in Italy sapete che il Made in Italy quando è nato è una frase ed è un conio tedesco fatto subito dopo la guerra e voleva dire Ocio Made in Italy cioè è una porcata e questo noi siamo stati capaci di tradurlo nel Made in Italy nel Made più invidiato nel mondo e questo è voglio dire testimonia il fatto che noi davvero la bellezza ce l'abbiamo nelle mani il concorso allora abbiamo deciso visto che la nostra professionalità viene dalla comunicazione abbiamo deciso di fare un bando che premiasse le attività sviluppate già in buon stato di avanzamento che fossero prodrome di bellezza di cura di creazione di produzione tutto ciò che può avere a fare con la bellezza che naturalmente ha mille aspetti noi oggi abbiamo ripetuto la parola bellezza ma per ognuno di noi la bellezza vuol dire tante cose che è un po' anche il limite di questa parola purtroppo ma detto questo abbiamo lanciato un bando un bando nazionale abbiamo avuto più di 70 proposte e non avevamo i soldi per metterlo sul Corriere della Sera quindi è stato un po' word of mouth ed è stato mandato in giro così e da tutto il paese ci sono arrivate tutta una serie di proposte l'idea qual è è di individuare quelle attività fatte dai cittadini o fatte dall'ONG o comunque da attività non a scopo di lucro che lavorando intorno alla bellezza hanno bisogno di crescere e di queste ce ne sono a centinaia stiamo tra l'altro preparando un atlante della bellezza di mezzo chiamiamola non la grande bellezza non la piccola ma tutta quella che i cittadini italiani producono e sviluppano e abbiamo un atlante con già 200 case interessanti e andremo avanti ad arricchirlo quello che abbiamo fatto quindi è stato quello di dire che cosa hanno bisogno di che cosa hanno bisogno sono bravissimi a fare quello che fanno ma non sanno comunicare hanno un problema di risorse ovviamente ma più ancora hanno un problema di professionalità non sanno come si fa a comunicare quello che fanno e senza comunicazione sono cose che restano sotto terra e quindi visto che quello è il nostro background culturale professionale ci siamo dedicati a offrire quello noi diamo consigli supporto e quattrini per comunicare abbiamo fatto questo bando sono arrivate 70 proposte le abbiamo selezionate abbiamo un advisory board con dentro una dozzina di persone sotto i 50 anni ciascuno con specifiche caratteristiche professionali e culturali e con questi abbiamo fatto la nostra scelta di 70 fate conto che 40 erano di livello non sufficiente non abbastanza non corrispondevano tutte agli dettami del bando le altre 30 erano assolutamente fantastiche noi le abbiamo premiate 4 perché questa era la possibilità che avevamo 2 dando denaro 2 dando progetti in kind per sviluppare questo tra l'altro uno dei progetti è questa questa fondazione che si chiama Muse è che è una fondazione che porta la bellezza nelle scuole e soprattutto nelle scuole disagiate con dei programmi che durano tutto l'anno portando pittori artisti teatranti musicisti dentro le scuole e facendo fare un percorso a queste scuole e dura come dicevo tutto il percorso curriculare oggi toccano 15 mila bambini sarebbe bello che toccassero 150 mila però sono quelle attività che come giustamente lei diceva noi dobbiamo educare la bellezza o alla riscoperta della bellezza che abbiamo in noi quindi una di queste l'abbiamo premiata ce ne restavano 25-26 cosa fare non potevamo prenderle in mano noi allora abbiamo chiamato a raccolta delle agenzie di comunicazione che facessero il nostro mestiere che in qualche modo masticassero bene di comunicazione è stato molto bello perché 8 di queste hanno adottato un progetto quindi noi oggi con la fondazione abbiamo in campo 14 progetti uno è i lazaretti veneziani che avevamo fatto l'anno prima che sono in corso e che la fondazione ha fatto nascere e sviluppare alcuni finiscono nell'arco dell'anno altri invece andranno avanti per altro tempo ma è stato molto bello trovare una comunità professionale che di solito è in competizione continua che ha trovato invece interessante quella di fare un'offerta di partecipazione insieme e quindi di adottare progetti a novembre lanciamo il nuovo bando abbiamo già delle grandi aziende come la TB Wallo a Saci & Saci che hanno detto che adotteranno un paio di progetti e poi cerchiamo degli sponsor abbiamo speriamo quest'anno qualche sponsor che farà un premio particolare all'interno del bando un premio che è costruito insieme alla fondazione e che porterà a premiare diciamo i partecipanti al bando che hanno alcune caratteristiche che saranno state decise con lo sponsor che produce il premio insomma piano piano ma continuiamo a cercare di seminare questo senso che la bellezza è qualcosa che per noi è importante e che c'è e di cui dobbiamo essere consapevoli quindi anche noi cerchiamo di educare la bellezza attraverso queste attività perché sono quelle che portano in emersione tutto ciò che non si vede o non si sa e che lentamente mi auguro portino a una consapevolezza maggiore di quanto questo sia il nostro patrimonio oggi il ministro il ministro degli esteri per quanto vale ha fatto però un grande discorso in Puglia su questo tema proprio dicendo come la bellezza sviluppa e qui e là insomma io sono dieci anni che semino staffarino piano piano vedo che qualche piantina cresce andiamo avanti tutti a lavorare su questo tema credo che nel tempo riusciremo nel nostro obiettivo non so se è un tuo tema Roberta però la vostra cappella del Barolo è quasi un emblema al colore se io mi guardo intorno un po' dappertutto il colore in genere è una scelta molto soggettiva quello mi piace e rifaccio la facciata però il colore poi insieme delle facciate fanno l'ambiente fanno la gradevolezza del territorio voglio dire che saperli scegliere bene dove il bene sta in modo sufficientemente uniforme per poter leggere quelle facciate insieme non come l'espressione del singolo progettista o geometra o in bianchino diventa importante poi lì non ci sarà che mancare nulla perché ci sono tutti i colori del mondo per cui tutti i colori primari e secondari sono messi su quell'edificio no inizialmente è stato veramente un problema adesso a me viene da sorridere perché la chiesa la chiesina è nel comune di Lamorra e si creano dei mostri perché praticamente non c'è angolo del comune di Lamorra che non abbia un rosso Ferrari un blu cobalto un giallo limone o non abbia un loop una curva una riga stile tendone da circo però io la vedo anche in maniera affettuosa nel senso che ormai è diventato un oggetto talmente amato che è diventato adottato dal territorio per cui sì è vero cercano di emularlo in maniera goffa però sono affezionati detto questo poi il colore è stato un tema piuttosto ricorrente perché il capitolo numero due di investimenti in arte ma non sono investimenti di coinvolgimenti in arte della mia famiglia è stato un affresco commissionato a Francesco Clemente che ha utilizzato l'unico colore che mancava ovvero il rosa maialino quindi noi ci troviamo all'interno di piazza Duomo che è questo ristorante che fa della qualità e della bellezza perché ogni piatto che ti propone Enrico Crippa quindi anche la bellezza può essere adottata in un ambito che è obiettivamente molto materiale come un un cibo quindi Francesco è intervenuto su una volta di un colore veramente sconvolgente vi immagino di pensare a sei persone che in un febbraio del 2005 sono state invitate alle 5 di sera nel buio appunto di febbraio quando si è accesa la luce su questo rosa che cosa non abbiamo pensato però alla fine il colore genera veramente allegria per cui io non riesco più a vedere delle persone che siano scontente quando si arrampicano e fanno un chilometro e mezzo sotto il sole di luglio a 40 gradi e raggiungono quella chiesa che con stupore la guardano c'è anche l'elemento paesaggistico intorno prima voi parlavate di Biella come capitale una delle città creative dell'UNESCO anche Alba è una città creativa a noi il merito è stato più che altro dato per una questione di cibo proprio noi appunto li prendiamo per la gola però le colline delle Langhe sono patrimonio UNESCO e quindi la chiesa si è bella però in un ambiente che è straordinariamente affascinante e il colore sicuramente è un valore aggiunto questo nuovo capitolo che noi abbiamo sulla collina di Vezza che non è più nelle Langhe ma è nel vicino Roero sarà un po' meno colorato però siamo convinti che appunto un elemento culturale serve da stimolo a portare interesse e a portare della gente sicuramente a scoprire uno scorcio di paesaggio che è bellissimo grazie sindaco le lascio in pasto tre parole fare distruggere nascondere questo è un indovinello una sfida è l'ultima la domanda più difficile beh io fare secondo me è un verbo che appartiene agli ingegneri mettiamola così no quando io mi sono presentato dicevano voglio essere il sindaco del fare eh quindi è una sfida perché fare vuol dire secondo me avere innanzitutto una visione sistemica no se guardiamo il tema della bellezza non si può prescindere dal contesto quando si fa un intervento il contesto è importante fa parte come dire delle regole del gioco ecco mettiamo così distruggere sempre nell'ottica di come recuperare bellezza come? l'ottica è come faccio recuperare bellezza si può distruggere io credo che si dovrebbe avere il coraggio no parlo degli ambienti urbani di di eliminare le cose più brutte che sono state fatte in alcuni decenni che sarebbe meglio dimenticare no io vi voglio raccontare qui un piccolo episodio che mi ha coinvolto nei primi mesi di quando ero sindaco e che in realtà non appartiene tanto al tema del distruggere ma apparentemente sì non so se voi avete presente avete di sicuro presente a Torino piazza Duomo no davanti al Duomo una volta c'erano un vecchio edificio insomma iuvarriano che poi era degradato insomma è stato cancellato nell'immediato dopoguerra un architetto molto importante razionalista no Andrea ecco passanti su commissione naturalmente del comune hanno costruito quello che oggi è il palazzo dei lavori pubblici no che è un pezzo di architettura importante e che però come dire molto discusso a Torino allora io un giorno sono andato in una scuola elementare una quinta credo di ricordare c'erano questi bambini e bambine e la maestra gli aveva fatto una domanda di cose da far fare al sindaco e una bambina dice devi far demolire quel palazzaccio che c'è davanti al duomo e io mi sono lasciato trasportare dall'entusiasmo di questa bambina io sono insomma non è che sia proprio rozzo ma non ho la competenza la conoscenza e ho detto sì sì ma mi fai ragione naturalmente sono finito su tutti i giornali perché quando un sindaco dice qualcosa finisce sul giornale specie se questa cosa fa notizia non solo ma mia figlia che vive a New York che si occupa d'arte d'arte contemporanea insomma mi ha telefonato dicendo papà ma cosa hai detto perché ho incontrato non mi ricordo chi insomma comunque un suo ovviamente un suo amico che però era in relazione con in qualche modo con l'architetto passanti che ha detto ma sei matto ma guarda che quella roba lì eccetera allora questo per dirvi che quando uno si mette in testa di dover distruggere qualcosa deve stare molto attento ecco anche lì il contesto non è secondario però insomma fatemi dire io abbiamo noi abbiamo con mia moglie abbiamo comprato una piccola pezzo di una casa nell'entroterra Ligure quando vado in Liguria vedo lo scempio che è stato fatto di quel paesaggio di quel territorio mi verrebbe voglia di dire qualche ruspa da qualche parte almeno per come dire per sanare un po' di quelle ferite ecco quindi io credo che il verbo non vada rifiutato a priori ecco anche se non è facile metterlo in pratica noi per esempio a Torino abbiamo avuto il coraggio di demolire lo dicevo prima perché ci è voluto coraggio le due torri due delle tre torri di via Artom delle case popolari di via Artom perché era meglio distruggere insomma ecco e il terzo verbo nascondere nascondere ma beh intanto non farei come si fa a Dubai mi pare in questi giorni di nascondere le parti intime di di quali cioè voglio dire la bellezza del corpo umano merita come dire rispetto e considerazione quindi anche lì bisogna stare secondo me molto attenti no io sul tema del nascondere però qui mi appello ci sono architetti di grido insomma comunque molto bravi in questa sala vengono usate degli interventi come dire per mascherare quantomeno certe cose per esempio nelle nostre città secondo me interventi che portino ad attenuare no la come posso dire l'armonia per esempio di certe piazze di certe e lì ci va un creativo insomma ci va tanta creatività però ecco per concludere noi non farla troppo lunga e spero di avere la sufficienza perché questa domanda è una domanda tranello che non mi aspettavo sono tutti e tre verbi secondo me che possono essere usati per per continuare a guardare all'obiettivo di costruire bellezza no e naturalmente bisogna sempre a mio modesto parere avere molta umiltà no molta prudenza e naturalmente nel momento poi finale di questo processo ci vuole il coraggio no il coraggio del fare il coraggio del distruggere e anche un po' il coraggio del nascondere grazie quando abbiamo scambiato quella breve chiacchierata io mi ero notato una parola i talenti sì il talento è una parola magica per noi io ho quattro figli e il compito che mi sono dato da padre è aiutare i miei figli a trovare il loro talento chi vive secondo il proprio talento ha una vita meravigliosa di solito ha successo e fa la cosa per cui è venuto al mondo per cui il talento è per quello che dico l'Italia il talento dell'Italia è la bellezza e il talento è una parola è una parola chiave è una parola importante è una parola difficile perché è difficile trovarlo è difficile individuarlo quindi il percorso educativo serve anche a far emergere i talenti aiutare i talenti a capire cos'è bello per te cos'è bello fare per te cos'è giusto che tu faccia e quindi lavoriamo molto sull'idea del talento proprio per riconoscere dove c'è o per come dire far crescere quello che c'è prima si diceva come si fa come si fa a far nascere il senso della bellezza credo che una delle cose sia quella di dare l'esempio noi il massimo che possiamo fare è comportarci nella maniera migliore nella maniera più bella nella maniera più giusta perché è solo quello che poi viene visto l'autorevolezza e non l'autorità nasce dal fatto di una presa di responsabilità e di un dono che ti fanno gli altri l'autorevolezza non viene da te viene da chi te la dà e te la danno perché tu hai provato il fatto che te la meriti allora credo che comportarci in questo modo porta bellezza nelle relazioni porta bellezza nel lavoro porta bellezza nelle comunità quindi sì il talento è una parola chiave volevo interloquire sulle cose che sono state dette perché la parola colore è molto importante la parola colore può trasformarsi in grande bellezza ma può trasformarsi anche in un disastro e penso che in territori dove purtroppo le costruzioni fatte negli anni che sappiamo ci sono e belle non sono se i sindaci o le giunte comunali potessero lavorare sul colore in maniera più attenta potrebbero nascondere o non distruggere perché magari c'è dentro la famiglia ma nascondere molto di più penso ai villaggi greci immaginate i villaggi greci cosa sono il bianco e azzurro è assolutamente la regola belli brutti non importa non lo vedi perché sono una macchia meravigliosa di colore che è sempre coerente allora credo che è una piccola cosa perché non richiede un gran che ma richiede grande serietà e competenza da parte delle istituzioni che possono munirsi di collaboratori per farlo ma credo che l'aiutare a nascondere il brutto usando bene il colore o togliendo il colore dove c'è potrebbe essere un piccolo passo che però già fa moltissimo una delle cose di cui sono più orgoglioso è che quando facciamo il piano regolatore abbiamo fatto il piano del colore della città per cui per esempio in tutte le zone protette per esempio in collina non so io noi che abitiamo insomma a ridosso della collina per dipingere la nostra casa abbiamo dovuto avere l'autorizzazione dal comune per avere i colori quindi ha perfettamente ragione il colore è un elemento straordinario e noi abbiamo il paese devastato da cose oripilanti basterebbe solo quello e faremmo già un grande passo avanti colgo l'occasione anche per ragionare sulla bellezza del territorio in cui siamo perché poi oggi si parla di questo e volevo che non dimenticaste che qui c'è una bellezza che non è quella che vedo ma è quella che so è la bellezza del fare questo è un territorio che ha fatto cose straordinarie allora attenzione a cancellare quella bellezza per trovare solo quella della natura o quella dell'architettura che in alcuni luoghi c'è ma in altri non c'è noi sappiamo il disastro della valle che va da qui all'autostrada e le costruzioni e i capannoni che ci sono dappertutto sono realtà con le quali dobbiamo fare i conti allora mettere a valore la bellezza che noi abbiamo in questo territorio è assolutamente sacrosanto ma io non so se basta ad attirare i 10.000 turisti che noi vogliamo avere io penso che la bellezza del saper fare e della tradizione del fare che c'è qui dentro cioè il DNA di questo quando noi facciamo la marca di un'azienda è il DNA che conta è la storia che l'ha creata è il sapere che c'è dentro che fa la capacità di costruirne un'immagine allora personalmente vi stimolarei a pensare a quel valore cioè riportare in luce l'occasione di fare bellezza nei vostri luoghi c'è una grandissima tradizione del fare che potrebbe trasformarsi in un'attrazione per imparare fare e coinvolgere comunità nel fare insieme e quindi anche gente che viene da fuori quindi ecco vorrei che quella bellezza non fosse dimenticata perché potrebbe essere un grande valore aggiunto pieno di senso l'UNESCO vi ha premiati per questo non per le belle chiese e questo è un valore che secondo me potrebbe trasformarsi nell'attrattore principale al quale poi corredarlo con le bellezze che il territorio può offrire è un'idea che mi è venuta mentre vi sentivo parlare ma ecco trovo che questo è un territorio che ha un'anima che se no viene dimenticata e che potrebbe produrre del bene dell'attrazione della ricchezza e della crescita un'ultima cosa l'esperienza dei comuni noi stiamo ragionando molto dopo la pandemia è stato abbastanza evidente questa riscoperta di una qualità della vita che non è più quella cittadina ma è quella dove la città è in rapporto ma tu non ci stai ma riesci ad avere collegamento con la città quindi c'è un problema di rete c'è un problema di trasporti però in Italia ci sono oggi già moltissimi luoghi in cui la proposta di venirci a vivere è coerente con i servizi esistenti ma nessuno lo fa cioè non ci si pensa non è all'ordine del giorno il racconto sulla qualità della vita che si riesce ad avere quando si esce dalle grandi città e si viene a vivere in campagna allora guardare alle reti dei borghi o alle reti dei comuni per cercare di trovare un sistema noi stiamo lavorando sui borghi sibillini dove vorremmo fare questa operazione ma dove si guarda il sistema dei servizi che tra i comuni si riescono a mettere insieme non tutti i comuni possono fare l'ospedale non tutti i comuni hanno ristorante non tutti i comuni ma l'insieme dei comuni invece offre una vivibilità molto facile da proporre dove la distanza tra un comune e l'altro è 20 minuti non è 2 ore e mezzo e dove quei comuni con due arterie possono essere legati a un centro medio e poi un centro grande cioè ragioniamo sulla trattività dei nostri territori guardando a quelle che sono le infrastrutture che abbiamo a disposizione per farne un tema di racconto e un tema di come dire possibile fruibilità di una qualità e di un tipo di vita diverso da quello della città soprattutto di chi in città vive male perché c'è tanta gente che vive bene ma c'è anche tanta gente che vive male e che in campagna vivrebbe meglio spenderebbe di meno avrebbe una qualità della vita migliore quindi secondo me c'è un potenziale noi siamo il paese dei borghi pensate agli 8 mila borghi che abbiamo connettere i borghi tra di loro e farli diventare un'entità di attrazione nel loro insieme costruendo una rete di servizi che non è tutta in un luogo ma sparsa come già esiste potrebbe essere un bel progetto da portare avanti in questo paese grazie io farò un ultimo giro un po' sulla scorta già di questo intervento chiedendovi poi voi avete avuto un'idea magari veloce superficiale di questo territorio oggi ma poi vi chiedo di dare un consiglio abbiamo però il tempo per se ci fosse qualche domanda dalla platea qualcuno vuol chiedere qualcosa ai nostri relatori silenzio allora lascio a voi che consiglio dareste sulla base dell'impressione che avete avuto come può fare un territorio come questo per recuperare gradevolezza ma dunque io premetto che conosco molto poco sono venuto credo due volte da queste parti una volta sono andato all'oasi Genia qualche tempo prima delle olimpiadi ero stato invitato dalla signora Laura a Genia si chiama perché mi pare di ricordare che ci fosse l'ipotesi di un intervento sull'impianto del scistico lì della zona quindi e sono rimasto incantato lo dico perché è stata una cosa bellissima e poi sono venuto a Vallemosso quella sera in cui ho conosciuto il dottor Piano quindi non conosco per cui sono molto cauto perché bisogna parlare delle cose che si conoscono almeno un po' però sono rimasto colpito questa sera quando ho salutato il sindaco di Val di Lana che mi ha detto che hanno fatto una fusione di comuni allora io che ho fatto quel mestiere lì vi garantisco che hanno fatto un miracolo hanno fatto un miracolo per la fatica per la burocrazia per insomma per tutto e allora però mi pare che sia un segnale importantissimo cioè un territorio va strutturato cioè io usavo l'espressione sistema territoriale un territorio va strutturato soprattutto se è fatto di piccoli nuclei di piccole realtà come Equino ma anche se c'è un nucleo urbano importante cioè bisogna fare una rete locale e mi pare di avere colto qui questa sera dei segnali molto interessanti perché vedo da una parte il mondo imprenditoriale dall'altra i sindaci immagino molte persone molti cittadini e cittadine diciamo comuni che hanno altri ruoli altre cose allora la prima cosa che mi verrebbe da dire è lavorare insieme fare squadra condividere obiettivi no la seconda cosa che no grazie la seconda cosa che io ho sperimentato nella mia città quando 25 anni fa sono diventato sindaco e c'era una situazione di declino ho sentito usare la parola declino qui allora bisogna avere visione strategia bisogna ragionare sul periodo medio-lungo quando dico medio-lungo dico ragionevolmente dieci anni ecco da lì quindi perché se vogliamo cambiare la parola cambiamento guardate è una parola magica perché tutti soprattutto quelli che non stanno bene vogliono cambiare ma la parola cambiamento in sé è una parola neutra se non la riempiamo di contenuti di obiettivi no allora il secondo non è un consiglio ma insomma un dato di esperienza che mi sento di dire è che è necessario avere progetti sfidanti di medio-lungo periodo no è necessario sognare fatemelo usare questa parola perché se non si sogna un po' quindi se non si mette l'asticella molto alta si fa molto poco se l'asticella è troppo bassa si fa se va bene quella roba lì se invece si mette l'asticella molto in alto beh insomma intanto non si è mai finito no e quindi c'è sempre qualcosa che resta da fare ma poi c'è ed è la terza cosa che voglio dire poi mi taccio c'è quella costruzione di energia di capitale umano che è la vera risorsa guardate una persona che mi ha insegnato moltissimo andavo a fare gli stage da lui quando ero sindaco è stato il sindaco di Barcellona Pasquale Maragall che avevano avuto le olimpiadi era lui che mi aveva dato l'idea insomma e Maragall una volta mi ha detto una cosa che mi ha molto colpito mi ha detto Valentino guarda che il problema dei soldi non esiste io ho detto come non esiste dice guarda quando tu hai delle idee che sono idee importanti e idee condivise i soldi si trovano allora anche questa è un'affermazione come posso dire con l'asticella alta però è vera guardate se voi avete dei progetti se avete dietro quei progetti un'energia di comunità che li sostiene non è così complicato trovare le risorse o perlomeno è più facile trovarle allora riassunto perché noi siamo abituati io mi hanno abituato a fare il riassunto gioco di squadra visione e progettualità condivisa queste sono secondo me le ricette per fortuna il dottor Castellani ha già praticamente dato chiavi di risposta alla tua domanda alla tua domanda perché per noi le langhe sono già un'asticella già un po' alta però posso fare una considerazione rispetto a dove siamo adesso allora quando ci siamo sentiti la prima volta per me come ti dicevo Biella era una città che avevo visitato quando avevo 15 anni per un torneo di tennis e poi nel 2000 per un convegno organizzato da Confindustria quindi due volte che ero stata a Biella in queste in queste settimane soprattutto andando a Milano la città è tappezzata da poster esattamente quindi qualche cosa si sta muovendo obiettivamente c'è un fermento un desiderio che già un enorme passo avanti rispetto agli obiettivi che vi siete posti ha ragione il dottor Castellani a dire che bisogna avere veramente una delle idee ben chiare e un degli obiettivi ben chiari e qua mi sembra che voi stiate coltivandoli lo stesso premio che oggi avete dato è andato a premiare delle piccolissime realtà che cercano e credono in quello che è questo territorio e mi ha fatto veramente molto piacere vedere come uno dei premi sia stato dato a un non a un italiano a un progetto italiano e quindi come in realtà il vostro territorio sia percepito già come straordinariamente bello da qualcuno che viene dal di fuori e quindi tante volte noi stessi non ci rendiamo conto di dove siamo e quanto sia bello il luogo che abitiamo e è un po' anche quello che succedeva da noi fino a una ventina d'anni fa quando poi abbiamo aperto gli occhi e abbiamo veramente iniziato a investire a credere a costruire con delle prospettive per portare sempre più gente nelle nostre colline attenzione perché poi per esempio cosa si sta verificando da noi è che le infrastrutture che anche qua non siete ben messi dalle nostre parti anche è un problema enorme perché non abbiamo treni abbiamo sì un'autostrada però poi un'autostrada che finisce ad alba e non riesce a proseguire per arrivare fino alla capitale della provincia che è Cuneo ed è una discussione che va avanti da una trentina di anni quindi attenzione che nel momento in cui un territorio che non è abituato perché noi ci siamo trovati ad avere pochissime presenze e concentrate solamente in un periodo molto specifico che era quello del settembre ottobre novembre proprio perché c'era la vendemia c'era il tartufo e quindi si concentrava tutto quello che sembrava potesse essere l'unico modo di l'unica attrazione per il territorio ad avere problemi ad accogliere perché non abbiamo parcheggi non abbiamo strade che possono essere sufficientemente capienti e capillari quindi occhio che se si fanno dei progetti bisogna anche poi riuscire a fornire delle infrastrutture che siano sufficientemente adeguate ad accogliere tutta la passione che poi il turista o l'appassionato dimostra per il territorio è un messaggio forte nel nostro ambiente questa di consigli ci siamo andati prima magari ci aggiunge anche qualche benchmark a chi dobbiamo guardare passo passo anche beh adesso io non sono un esperto di questo però certamente le langhe hanno dimostrato come diceva prima la signora Ceretto una capacità di emulazione ha detto prima l'esempio loro hanno dato l'esempio e l'esempio si è scatenato quindi quell'area è stata certamente un'area che era dimenticata e che ne è emersa invece in maniera straordinaria un'altra è sempre legata al vino ma ci sono delle ragioni è la Franciacorta la Franciacorta non esisteva 30 anni fa oggi è un punto di riferimento e intorno alla Franciacorta il ricevimento la capacità di accogliere è stata sviluppata e fatta quindi ci sono degli esempi ce ne sono probabilmente tanti altri però a guardare bene si vedono e credo che una delle chiavi lo diceva prima l'architetto ha a che vedere con la condivisione con il fatto che ci si muove insieme quando Ceretto è partito ha poi in qualche modo fatto strada e gli altri hanno seguito e oggi sono una comunità è gente che si parla è gente che si scambia è gente che attira insieme attrae assieme quindi è davvero un lavoro che parte dal basso e che parte da quello che voi oggi avete dimostrato privato pubblico e cittadini ecco i due esempi che mi sono venuti in mente sono questi ma certamente ce ne sono molti altri dovrei pensarci un attimo e riflettere però se andiamo a guardare ne troviamo e devono un po' guidarci nella nella capacità di partendo dal basso portare tutti a bordo un progetto che poi deve avere sogno come giustamente dicevi il sogno muove il sogno porta bellezza il sogno riempie e chiama i talenti insomma sognare è importante i progetti devono essere alti è chiaro che io che ho un progetto altissimo so che non ci arriverò mai ma bisogna anche che la sticella sia messa in un posto dove poi ci arrivi perché se no è bello sognare ma poi sbattico tutti quindi sogno sì difficoltà certamente non avere paura di sognare poi un po' di concretezza la figlia ci vuole se no restiamo restiamo operari bene avendo l'opportunità del tempo adesso faccio una forzatura io l'ho citato prima Luca vieni per cortesia a farci il discorso dell'orgoglio Luca De Marchi è importato a Biella e forse il vantaggio del venire da fuori gli consente di avere di queste visioni buonasera io non ero preparato per dire nulla in realtà per cui grazie Paolo è un dispiacere partecipare ai tuoi eventi ho avuto molto su cui riflettere in quello che è stato detto per cui più che fare un discorso su commissione no no io voglio quello dell'orgoglio è in parte quello una delle cose che secondo me qua bisogna sottelinare parecchio è quello che si è detto delle langhe cioè che vent'anni fa non erano quello che sono oggi e io casualmente vivevo lì vent'anni fa perché facevo l'università ad Alba sono cambiate in maniera rapidissima cioè questo deve essere in realtà una spinta per noi perché una cosa che qua si sente spesso dire è che comunque il cambiamento richiede troppo tempo che è una cosa lenta il mondo può cambiare in maniera davvero rapida questa è la prima cosa che mi viene da dire arriveremo anche all'orgoglio in un certo senso che è una cosa che io tengo parecchio ma ci arriverò parlando della parte in cui abbiamo parlato di educazione alla bellezza credo che un problema sia anche definire probabilmente il concetto di bellezza questo è già stato più o meno detto ma in un certo senso per noi che abbiamo una cultura classica di origine classica comunque sia tutti noi il concetto di bellezza è anche spesso correlato con un concetto quasi istintivo di armonia che vuol dire che non è necessariamente sempre da educare l'apprezzamento della bellezza ma nasce può nascere in maniera istintiva da una tutela di un oggetto che amiamo io credo che la prima cosa e qui possiamo arrivare un po' alla questione di orgoglio che può creare bellezza che può innescare un cambiamento di bellezza sia creare un sentimento di amore verso il posto dove si abita questa è davvero la cosa che per me è più pressante da costruire qua che non ha a che fare con l'arte contemporanea con la comprensione di appunto di canoni artistici che a volte capiamo no ha a che fare con l'emulazione ha a che fare con l'educazione in senso lato ma ha a che fare con la tutela di una cosa che amiamo che non vogliamo degradare che vogliamo preservare che vogliamo conservare la bellezza che ha questo concetto di bellezza ripeto non mi sono preparato per cui sto andando un po' a braccio e anche che ha un sentimento più dinamico l'educazione insegna a riconoscere alcuni valori di bellezza ma l'amore ha un senso di transizione di dinamismo che ci segue nella nostra vita e che in realtà viene trasmesso anche alle generazioni successive e questo è di nuovo un'altra cosa che non dobbiamo in parte dimenticare non so se in questo riesco a essere chiaro ma la prima cosa che dobbiamo innestare e non vale per le persone che sono qua se oggi siamo qua è evidente che siamo qua perché amiamo questo territorio ma è una cosa che va diffusa all'intera popolazione è il senso di amore e di appartenenza verso questo territorio io temo che noi motivi e questo è quello che è successo in Langa la Langa è esplosa perché ogni singolo Langhetto è innamorato della sua terra questo almeno io credo questo è quello che ho visto mentre abitavo là potrei confermare quando io abitavo in Langa all'inizio della trasformazione in realtà nessun langarolo voleva essere da un'altra parte cioè quella era la loro terra andare una sera a Torino già li faceva star male quasi non lo so ecco questo non è un sentimento che è ancora molto diffuso qui da noi ripeto lo è da noi se no non saremo in questa sala ma e immagino che uno dei motivi per cui non è così diffuso all'interno di tutta la popolazione questo sentimento di amore verso il proprio territorio è perché in realtà non lo si conosce così tanto io credo credo che i biellesi per primo per primi spesso non sappiano che cosa è stata capace di fare Biella che cosa può fare che non abbia idea della varietà di del kaleidoscopio di eccellenze che questa terra accoglie o ha accolto in passato ecco per cui credo che davvero ripeto sarà un po' ripetitivo ogni volta che parlo alla fine mi ritrovo a dire questo ma è far sì che le persone che abitano qua si reinnamorino di questo posto si innamorino per la prima volta ne siano orgogliosi questo è il primo passo per innestare il cambiamento e per creare bellezza successivamente perché ripeto molta della bellezza è prendersi cura di qualcosa che amiamo in un modo o in un altro questo è più o meno nei verbi che hai citato mancava il termine trasformazione le cose non sono necessariamente solo da fare da nascondere o da distruggere possono evolvere possono trasformare la sintesi alla trasformazione e non possiamo dimenticare che il palazzone degli anni 70 che sembra brutto oggi può non esserlo può essere ridipinto ma può essere quanto di quello che noi oggi consideriamo classico e bello in realtà è stato considerato brutto quando è stato fatto quanto noi consideriamo mancanti di cultura gli americani che distruggono una casa di Frank Lloyd Wright o cose così semplicemente perché non risponde più ai canoni attuali in un certo senso per cui è trasformare la chiave non necessariamente distruggere non necessariamente nascondere ecco questo è un po' quello che posso dire oggi presa la sprovvista e in maniera assolutamente improvvisata grazie grazie Luca non mi scuso neanche perché sapevo che te la saresti cavata benissimo grazie bene io ringrazio i nostri relatori tantissimo credo che ci hanno lasciato tantissimi input grazie 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 grazie